Un'esplosione di suoni straordinaria per la stagione all'Arena Flegrea del Noisy Napolfest con quattro generazioni di artisti in palcoscenico. Sabato in concerto ci saranno James Enese, 9-9 Posto e Foia e Gabriele Esposito. Ho pensato di mettere insieme quattro artisti che a mio giudizio raccontassero tutti bene Napoli e che raccontassero tutti Napoli in una maniera diversa. Poi in questi giorni, più avanti riflettendone proprio con Dario perché è vero che io l'ho pensato però Dario diceva giustamente che bello, sono quattro generazioni diverse di Napoli che si incrociano, si incontrano, che si conoscono, si vogliono bene, si stimano. Tanta bella musica ma anche divertimento con Sara Penelope Robine e Vincenzo Comunale che accompagnerà nel pubblico in questa serata straordinaria presentando gli artisti e intervenendo durante i cambi palco. A chi se la domanda nè però? Perché a un certo punto non si sapeva che può succedere, sappiatelo, quello uno ne pensa e c'entra, vinte ne fa. I 9-9 Poste insieme alle ultime arrivate, Comanda la Gang e Nero su Bianco travolgeranno la platea con brani iconici tra cui non mancheranno Curro Curro Guaglio e l'anguilla gemsenese, a 40 anni dal primo album solista dal titolo gemsenese, festeggia con l'uscita del suo 22esimo lavoro discografico Stiamo cercando il mondo per il concerto. Sabato ha messo in scaletta anche Chitain Omar in omaggio al suo grande amico e compagno di una vita a Pino Daniele. I FOIA proporranno al pubblico i brani dell'ultimo Miracoli e Rivoluzioni, le preziosi e ociori oviente, non ne cose a mano dei Dios. L'opening act è affidato al giovanissimo e talentuoso Gabriele Esposito con un set di brani inediti con le ultime arrivate e l'unica è a rete a nu pensiere, un set coinvolgente dal sound New World Beat e Folk.